Un saluto dal Tg della mobilità sulla ferrovia Metro Mare dopo il rinvio della scorsa settimana parte da oggi la chiusura serale alle ore 21. Lo stop anticipato del servizio sarà in vigore dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato e domenica la linea seguirà i consueti orari. La chiusura alle 21 si rende necessaria per i lavori di rinnovo della linea aerea. Gli interventi prevedono infatti la sostituzione completa dei palli di sostegno e del filo di contatto. L'ultima corsa partirà alle 21 da entrambi capolinea Porta San Paolo e Crizzoforo Colombo. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.